Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo l'addio di Amadeus al programma Affari Tuoi, che ha trovato casa sul 9, la conduzione di Stefano De Martino ha registrato un aumento di ascolti. Tuttavia, molti spettatori hanno notato che i pacchi di maggior valore rimangono in gioco fino alla fine di ogni puntata. Le critiche di Michelle Hunziker non sono passate inosservate. Durante l'ultima puntata di Striscia la Notizia, la conduttrice ha puntato il dito contro il programma di Rai 1, sottolineando l'utilizzo di meccanismi casuali per mantenere alta l'attenzione del pubblico. In risposta alle numerose domande ricevute, Striscia la Notizia ha deciso di riproporre un vecchio servizio che mette in luce le stranezze di Affari Tuoi. Michelle Hunziker, tornata dietro al bancone del programma satirico, ha espresso la sua emozione per il ritorno, sottolineando l'importanza di riprendere il timone dopo un periodo di pausa. La presenza di un nuovo collega, Nino Frassica, e le novità in arrivo rendono il ritorno ancora più stimolante. Sul fronte delle voci di gelosia da parte di Jerry Scotti, Michelle Hunziker ha smentito categoricamente, sottolineando l'impegno del collega che, a suo parere, potrebbe non aver nemmeno notato la sua presenza. Il dibattito sulle dinamiche di Affari Tuoi continua a tenere banco, con Striscia la Notizia che si fa portavoce delle critiche e delle curiosità.